E' stato presentato questa mattina nella sala consigliare del comune di Pordenone l'edizione 2016 di Dedica Festival. Si tratta di un itinerario culturale che anno dopo anno propone l'approfondimento della conoscenza di un autore e della sua opera attraverso l'intreccio di diversi linguaggi ed espressioni artistiche. E' una dedica quest'anno particolarmente impegnativa e quasi sembra essere provocatrice, una provocazione verso un momento storico come questo che ha verso i paesi magrebini, verso i paesi del Mediterraneo che sono i nostri rimpettai, un momento così aspro e di continua discussione se alla fine conosciamo bene queste realtà o non le conosciamo affatto. Otto intense giornate per riflettere sugli avvenimenti che agitano il mondo contemporaneo, filtrati attraverso l'invenzione affabulatrice di un protagonista della letteratura mondiale. Jasmine Cadra, lo scrittore algerino che avremo qui, algerino e francese, ci darà la possibilità di addentrarci e di avere una testimonianza diretta di che cosa sono queste cose, di farci alla fine riflettere. E' quello che noi vogliamo e fa parte della tradizione culturale della nostra città, quindi una grande dedica e un augurio a tutti di esserci e di partecipare attivamente. Grazie a tutti.